Per la comunità di Colli al Metauro e di residenti di Calcinelli è stata una giornata lunga e difficile. L'ultimo saluto è stato dato a due concittadini nello stesso giorno, uniti dalla stessa radicale scelta di chiudere con la vita, per il peso insopportabile che questa aveva ormai per Antonella Tonelli e lasciare un mondo che ormai non gli apparteneva più, per Patrick Ceccomarini, come lui stesso ha lasciato scritto. Una giornata, come ha detto Don Steven Carboni, che ha celebrato entrambi i riti funebri, in sostituzione di Don Giuseppe assente per motivi di salute, una giornata che difficilmente Calcinelli potrà dimenticare. Alle 10 di oggi, conoscenti i commercianti, ex colleghi di lavoro di Antonella, ma soprattutto le sue amiche più strette, che hanno scoperto la tragica scelta fatta dalla loro amica, hanno riempito la chiesa e tributato a lei l'ultimo saluto. Chiaro il messaggio che prende spunto dalla prima lettura di Don Steven, ovvero quello di non colpevolizzarsi per la scomparsa di qualcuno, sepolti dai sé e dai ma, ma di interessarci prima alla vita degli altri e donare amore, e non lasciare ai social il compito di trasmettere il disagio, la sofferenza, ma di farcene carico noi stessi. Simile, ma non diversa, l'impronta del messaggio invece per Patrick, che dice il sacerdote, ha espressamente chiesto che questo sia un momento di festa. Difficile comprenderlo e soprattutto realizzarlo da parte di una comunità pietrificata da questa scelta che Patrick ha fatto. Ma Don Steven rimarca che pur avendo da poco conosciuto questa comunità, ne percepisce il senso di vicinanza e di fratellanza che unisce tutti coloro che hanno gremito la chiesa per la funzione di Patrick alle 15 di oggi. Oggi non è però il giorno delle risposte, oggi è un giorno in cui non dobbiamo tornare a casa con un cuore triste, dobbiamo dire a noi e a Stefano e Roberta, i genitori di Patrick, che Gesù ci cammina accanto e che c'è bisogno che Lui ci scaldi i cuori e che dobbiamo essere vicini l'un l'altro. A su giallo di questo le parole di Papa Francesco pronunciate ai giovani a Roma, questa è stata il Circo Massimo per dire a tutti che Lui ci ama e che è questo l'insegnamento che ci può arrivare e far star vicino a chi soffre e fargli sentire, che lo amiamo, proprio come faceva Patrick, che in ogni gesto che faceva, faceva sentire speciali gli altri. Poi palloncini bianchi e azzurri in chiesa e fuori magliette con scritte rosse e festoni, gli amici di Cattolica lo hanno voluto salutare così, come lui aveva chiesto. Poi le parole di conforto sono arrivate anche dalle colleghe di lavoro della madre, sostenuta fisicamente da papà di Patrick in un contatto fisico continuo per tutta la cerimonia, quasi a volersi saldare in un'unica persona per affrontare uniti questa sfida con un dolore che sembra così insuperabile. Grazie a tutti! Grazie a tutti!